Il conto alla rovescia verso il 2030 e il 2050 due delle date importanti a tema ambiente è già iniziato e da un bel po' di tempo. Da ex giocatore di pallacanestro a una certa abitudine con il conto alla rovescia, una partita di pallacanestro in Europa dura 40 minuti, ognuno dei quattro periodi 10 minuti e abbiamo a disposizione 24 secondi per fare canestro e il tempo ogni volta va verso lo zero, proprio come nei film quando l'ordigno sta per esplodere in campo si sente, si percepisce la tensione, la pressione quando il tempo va verso la sirena finale. Statisticamente una palla persa, un tiro sbagliato a inizio partita ha lo stesso identico valore di una palla persa, un tiro sbagliato a un minuto dalla fine. Statisticamente però, se sbaglio un tiro a 30 secondi dalla fine col punteggio in parità o commetto una palla persa a 5 secondi dalla fine sotto di un punto ci sarà qualcuno che arriva e mi dice Teo non ti preoccupare hai sbagliato un tiro anche nel primo tempo è la stessa cosa, non è vero, non è per niente la stessa cosa, perché il peso specifico di ogni singolo gesto, tiro, palla persa è decisamente diverso, semplicemente perché più ci avviciniamo alla sirena finale meno tempo abbiamo per recuperare da quell'errore. Nella pallacanestro c'è un frangente della partita a cui viene addirittura dato un nome, clutch. I minuti in the clutch sono gli ultimi cinque di un incontro quando il punteggio, la differenza di punteggio tra le due squadre è al massimo di cinque punti. I giocatori clutch sono quelli che in quei frangenti per capacità e caratteristiche riescono a fare la differenza. Vi faccio qualche nome che anche se non siete appassionati di pallacanestro e vergognatevi, conoscete Lebron James, Steph Curry, Luca Doncic, giocatori meravigliosi per talento, per tecnica, personalità. Questi giocatori, ma in generale tutti i giocatori in quei frangenti hanno percentuali al tiro peggiori rispetto alle loro abitudini. È un dato di fatto, è statistica proprio. Nello sport e nella pallacanestro dobbiamo affrontare due elementi. Il tempo, inteso anche come età che avanza, è un avversario che a volte può essere più forte di noi. La razza umana a tema ambiente ha gli stessi due elementi da sfidare. Il tempo appunto, che è sempre di meno, è un avversario, che in questo caso però siamo noi. È quel piccolo margine di errore che ci deve far percepire quel senso di urgenza in quello che facciamo, quel senso di esigenza verso noi stessi e verso chi abbiamo accanto, quel senso di responsabilità individuale che ci deve porre rispetto alle sfide che abbiamo col giusto atteggiamento e approccio. Cioè quel senso di responsabilità nell'essere concentrati per rendere nostro quello che facciamo, dal gesto più semplice al gesto più complesso, con l'idea di renderli facili e automatici. Qualcosa di semplice è definibile oggettivamente. Cosa lo rende facile sono le nostre abilità oppure il tempo che dedichiamo alla ripetizione di quel gesto? Aprire o chiudere una portiera di una macchina è un gesto semplice. Farlo con un braccio ingessato diventa difficile. Far rimbalzare un pallone a terra è un gesto semplice e anche facile. Farlo correndo veloce, con i cambi di direzione, con un avversario davanti diventa difficile e complesso. Le scelte difficili e importanti rispetto al tema ambiente per adesso le lasciamo a chi occupa il ruolo di prendere quelle decisioni. Noi siamo anche fortunati perché i gesti quotidiani, quelli che possono anche fare la differenza, sono per lo più semplici. Spegnere l'acqua mentre ci laviamo i denti o mentre ci insaponiamo sotto la doccia. Fare la raccolta differenziata, questo nemico. Tenere le strade pulite. Pensate che nel 2023, ad oggi, ci sono ancora persone che buttano le sigarette per terra. Spero di no, ma potrebbero essere tra noi. A tal proposito, vi racconto un episodio che è successo a me e mia moglie. Nostra figlia, Cecilia, stava tornando da scuola, aveva 12 anni e davanti a lei una signora ha buttato una sigaretta per terra. Cecilia, con grande coraggio per l'età, gli ha detto, signora, l'è caduta una sigaretta? No, tesoro, non mi è caduta, mi ha risposto. E Cecilia, è infatti. La signora, borbottando qualcosa, l'ha raccolta e l'ha messa nel cestino. Quindi si può imparare, si può migliorare. È solo una questione di abitudini. Io non ho frequentato il liceo e non ho studiato latino, però mi è stato detto che abitudini deriva da habitus, cioè l'abito che noi vogliamo far indossare al nostro cervello. Quando impariamo qualcosa, c'è sempre qualcuno che ce la insegna. Quando ho iniziato a giocare a pallacanestro, mi hanno insegnato che per tirare devi tenere i piedi alla larghezza delle spalle, piega le gambe, tieni la schiena dritta, rilassa le spalle, allarga bene le dita sul pallone, carica il polso, piega il gombito, stendilo davanti alla testa e via dicendo. E ti eserciti e fai, c'è sempre l'allenatore che ti consiglia, che ti corregge. Deve arrivare un punto però, parlando di responsabilità individuale, che ad ogni singolo gesto sono io che mi ripeto nella testa per rendere mio quel movimento che, ok, Teo, piedi alla larghezza delle spalle, piega le gambe, tieni la schiena dritta e via dicendo. Fate conto che in un allenamento normale di pallacanestro si tirano 300-400 tiri. Mettete assieme tutti gli allenamenti in una carriera quante volte tiriamo. Per alzata di mano, quanti di voi hanno la patente? Praticamente tutti, il 2023 si spera. Vi ricordate la prima volta che avete guidato a scuola guida? Io mi ricordo e per la disperazione avevo le mani nelle sopracciglia. Sali in macchina, la cintura, gli specchietti, le luci, i semafori, i segnali stradali, le rotonde, gli incroci, le biciclette, i pedoni, le macchine, piove, c'è il sole, cordina, mani, piedi. Ma dove vado? Poi per fortuna abbiamo il nostro allenatore in macchina, che è l'istruttore di guida, che ci tranquillizza, che ci indica. Sono convinto ovviamente che per guidare serve una caratteristica, che dobbiamo essere concentrati. Noi siamo obbligati ad esserlo, perché è talmente complesso, perlomeno all'inizio, è talmente pericoloso sempre, che se non siamo concentrati rischiamo di andare a sbattere, ci facciamo del male, peggio ancora facciamo del male a qualcun altro. Sono abbastanza certo che oggi, mi ci metto dentro anch'io, mentre guidate potete mangiare, bere, guardare il cellulare, impostare il navigatore, guardare fuori il panorama, cercare nella borsetta, nel borsello, tutte cose, ripetiamo insieme, che non si fanno, ma siamo stati talmente tanto concentrati in quello che abbiamo fatto, che adesso possiamo pensare e fare dell'altro, mentre eseguiamo un compito così pericoloso. E il nostro allenatore in macchina non c'è più, perché l'istruttore è sceso già da un bel po' di tempo. Io credo sia giusto avere questo tipo di approccio in tutte le cose che facciamo quotidianamente, con l'obiettivo di renderle nostre, dalle cose più semplici a quelle più complesse, con l'obiettivo di renderle facili. Qualcosa di semplice è definibile oggettivamente, l'abbiamo detto prima, quindi quello che possiamo fare è renderlo facile quotidianamente, perché i gesti che possono fare la differenza sono importanti. All'interno del mio percorso, con la palla a spicchi, mi è sempre piaciuto tantissimo allenarmi tanto e forte, però ho attraversato tre momenti diversi di consapevolezza. Quando ero piccolino mi allenavo forte e tanto perché mi dicevano di farlo. Quando ho iniziato un po' a crescere mi allenavo tanto e forte perché altrimenti mi sentivo in colpa se non lo facevo. Ho raggiunto la consapevolezza finale, la maturità, quando mi allenavo tanto e forte perché lo trovavo giusto per me e per quelli che avevo accanto. Noi quotidianamente possiamo avere le nostre motivazioni per fare quello che facciamo, per me non contano, ce n'è una migliore o peggiore dell'altra per essere virtuosi. Non vogliamo essere virtuosi per il cambiamento climatico, facciamolo almeno per l'impatto inquinante dei nostri gesti quotidiani. Non vogliamo farlo per l'impatto inquinante, facciamolo per quanto è brutto vedere le strade sporche e l'ambiente sporco. Non vogliamo farlo per l'impatto visivo, facciamolo per le generazioni che verranno. Non vogliamo farlo per i nostri figli, facciamoci curare però a questo punto. Da oggi, mentre il tempo inesorabilmente sta scorrendo, proviamo a pensare a quello che possiamo fare, proviamo a capire che abito far indossare al nostro cervello. Dimostriamo a noi stessi di essere delle persone clutch, proviamo a rendere facile anche quello che oggi è già semplice. Grazie. Applausi. 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 Applausi.